Pronti? Uno, due, tre. Al comando, al completamento della curva, Dimon deve adeguarsi in seconda posizione davanti a Dol Toll, gli altri più discosti, completamento dei 200 iniziali in 16, davanti alle tribune in vantaggio dunque Diluvio, seconda posizione in corda per Dimon che ha chiuso favorito, poi Dol Toll, ancora Drake il più veloce del secondo nastro che precede Daniela V e quindi Dylan Criss, mentre inseguono Juanito Goberna che dovrebbe essere stato squalificato e molto più lontani invece Dinamica Wise, se ne vanno intanto i primi 600 metri di gara in 48 e mezzo, ha preso in mano decisamente Diluvio, rientrante dopo alcuni mesi di assenza, ne approfitta per risalire all'esterno sul rallentamento imposto dal leader Daniela V Dimon sempre in scia a Diluvio, poi Dol Toll e all'esterno c'è anche Dylan Criss che segue direttamente le mosse di Daniela V, se ne va intanto il chilometro iniziale con leader sempre Diluvio che ha completato in uno, venti e mezzo i primi mille metri di gara, all'esterno Daniela V arriva al sediolo del leader, a contatto rimane Dimon, all'esterno anche Dylan Criss, poi ha spostato anche Drake che forma una terza pariglia lasciando in coda Dol Toll Cavalli che sono ormai a 650 dalla conclusione, sempre condotti da Diluvio, in seconda posizione i Dimon, all'esterno Daniela V che si trascina Dylan Criss e Drake, lungo la corda invece Dimon e Dol Toll, 450 alla conclusione, cerca di rinviare in terza ruota Drake siamo intanto al paletto dei 400 conclusivi con Daniela V che insiste su Diluvio che si difende, a contatto rimane Dimon, poi Dol Toll e all'esterno c'è ancora Dylan Criss completamento della curva conclusiva con Daniela V che insiste all'esterno, attacca con estrema decisione, sposta invece Dimon in terza ruota si difende Diluvio, insiste a centropista Daniela V, poi lo scatto nel finale di Dimon che riesce nelle battute conclusive ad aver ragione di Daniela V e di Dol Toll, 1.17.4 con 28.7 a chiudere e Dimon riesce a trovare il varco per scattare all'esterno in rete d'arrivo e vincere su Daniela V e Dol Toll che finiscono molto vicini per il secondo posto, andiamo a rivedere la vittoria netta però per il favorito Dimon e Antonio Di Nardo, il training di Gennaro Casillo per conto del signor Nazareno Cogliani la vittoria da favorito, di spunto, come vedete Daniela V corre molto bene sul palo è raggiunto da Dol Toll, ci sarà probabilmente foto per il secondo posto che vede probabilmente l'allievo di Andrea Farolfi, Dol Toll, riuscire a piegare di misura Daniela V, ma ci sarà fotografia Grazie 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 Grazie.